I migranti e la possibilità di realizzazione in Toscana di un CPR, centro permanenza per il rimpatrio, al centro del dibattito in consiglio regionale. Ha approvata a maggioranza dall'Aula la mozione del PD, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, che impegna la Giunta a manifestare in ogni sede utile la ferma contrarietà a ogni ipotesi di CPR sul territorio regionale. Secondo Ceccarelli, per quanto riguarda la gestione del fenomeno migratorio, il governo sbaglia. Il fenomeno viene affrontato con una gestione che ha poco dell'umano e che non coinvolge assolutamente i sindaci, le amministrazioni locali, le regioni, se non perché le problematiche gli ricadono addosso nel momento in cui questa gestione diretta dal Ministero alle Prefetture si riversa sui territori senza che gli amministratori locali siano preventivamente coinvolti. Credo che invece occorra affrontare il fenomeno in maniera strutturale con una visione complessiva, con umanità che è il primo requisito perché stiamo parlando comunque di persone umane che spesso scappano da luoghi che sono invivibili perché ci sono le guerre, perché c'è la carestia, perché comunque non c'è una prospettiva di vita per quanto riguarda soprattutto i minori che arrivano con gli sbarchi, tenendo anche conto di quelle che sono le esigenze del mondo produttivo. Tutto questo deve coinvolgere quindi tutta la filiera istituzionale e non può essere trattato ad esempio con i CPR che si rivelano delle strutture che erano nate per essere strutture di accoglienza dove le persone potevano stare al massimo 30 giorni e che invece ora in base all'ultimo decreto possono accogliere questi migranti addirittura per 18 mesi. 24 i voti a favore PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, 12 i voti contrari Lega e Fratelli d'Italia. Esiste un'emergenza che mi auguro tutti i contrari e favorevoli al CPR vogliano riconoscere ovvero quella di allontanare dal nostro paese chi entra in Italia per delinquere. Io mi auguro che al di là del dibattito sul CPR sì, CPR no, vi sia questa decidenza condivisa. Se una persona entra in Italia e compie un reato deve essere espulsa. Per poterla espellere serve una struttura in cui metterla in attesa di espulsione, il CPR è questo. Io stavamo di mattina ho ascoltato in aula persone che parlavano di ragazzi da accogliere che vengono a farsi la seconda vita in Italia, che devono avere una seconda opportunità, ragazzi che sono arrivati e grazie alle strutture d'accoglienza hanno conseguito la patente di guida. Tutto bello. Non stiamo parlando delle stesse persone. Il CPR è una struttura che serve a contenere chi delinque. Chi viene in Italia a cercare di prendersi la patente di guida è liberissimo di continuare a farlo. Chi viene in Italia per spacciare cocaina al parco delle cascine no. La Toscana è una delle regioni governate dal centro-sinistra che in Italia non vuole i centri di permanenza per i rimpati che sono quelle strutture che devono mantenere per un breve periodo di tempo gli irregolari che sono chiaramente delle persone che devono essere rispedite a casa loro, nel loro Stato. Questo è un no ideologico da parte di chi amministra questa regione perché il Governo sta cercando attraverso l'attuazione di questi CPR in nuova veste, tra l'altro anche finanziando e dando la possibilità di migliorare queste strutture e dando possibilità anche di maggiore spesa per la permanenza di queste persone all'interno del CPR. Si parla di criminali, di persone che non possono stare nelle carceri a spese degli italiani ma che se entrate regolarmente devono essere rispediti a casa loro. Respinte le mozioni presentate da Fratelli d'Italia, prima firmataria Elisa Tozzi, in merito all'adesione della regione toscana all'intesa nazionale sui migranti e quella della Lega, prima firmataria alla capogruppo Elena Meini, in merito all'istituzione necessaria di un CPR in Toscana. Ancora una volta il Partito Democratico in regione toscana sceglie di non assumersi la responsabilità appunto di scegliere, di dare una risposta a tutti quei cittadini che oggi percepiscono il tema dell'immigrazione e come un tema che si lega indissolubilmente anche al tema della sicurezza. Avevamo proposto che ci fosse un impegno formale dal Consiglio regionale fino alla Giunta a sottoscrivere gli accordi con il Governo nazionale che appunto aprissero la possibilità alla Toscana di avere anche delle risorse da appunto investire sul tema immigrazione, a prescindere dalla questione CPR o meno. Sì, per noi è fondamentale fare un CPR in Toscana, e non lo dice la Lega ma lo dicono anche i prefetti, per un tema di sicurezza, perché è troppo facile sciacquarsi la bocca con la parola sicurezza, invocare il Ministro degli Interni per un aiuto, chiedere al Governo che intervenga. Anche oggi leggiamo che 30 sono i militari che arriveranno nei prossimi giorni solo a Firenze dopo una richiesta di aiuto direttamente al Ministro Piantedosi del Sindaco Nardella, però quando il Governo chiede Toscana facciamo un accordo, firmiamo un protocollo d'intesa come la maggioranza delle altre regioni per istituire un CPR, la risposta è no. La sicurezza parte e passa anche da un CPR. In Toscana il CPR lo faremo, in Toscana il CPR il Governo lo farà, lo farà naturalmente perché arriveremo anche ad un accordo con la Regione Toscana, a un accordo su dove il CPR nascerà, un accordo con i sindaci, un accordo con l'Anci, perché c'è bisogno di ridurre i tempi, c'è bisogno di ridurre i costi. Pensate a quante ore la nostra polizia, i nostri carabinieri trascorrono in macchina portando un singolo immigrato in un CPR che è molto distante dalla Toscana. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di più sicurezza, abbiamo bisogno di più militari, il Governo risponde sì ogni qualvolta la Regione o i sindaci, senza distinzione di colore, chiedono un incontributo o un intervento da parte del Governo e questo deve essere reciproco. Italia Viva e Movimento 5 Stelle criticano la gestione da parte del Governo in merito al fenomeno migratorio, come pure la previsione del CPR. Questa è la dimostrazione concreta del fallimento che il centrodestra sta facendo sulla questione che riguarda l'immigrazione. ha fatto tutto l'opposto di quello che aveva promesso, i sbarchi sono aumentati, il tema dell'immigrazione sta travolgendo il nostro Paese e non si stanno trovando delle risposte cogenti e puntuali per risolvere questa questione. Il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa, provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza, ma bisogna anche limitare gli accessi e questa è una risposta che serve da parte del Governo e questo sta mancando. Evidentemente non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare una sorta di lagare in Toscana da dove concentrare un numero indiscriminato, diciamo, di persone che vengono accolte, giustamente salvate nei mari, ma questa non è una risposta. Serve fare un'azione di Governo che sta mancando oggettivamente. Ho tenuto a riportare la discussione anche sulle cause del fenomeno immigrazione perché da parte del centro-destra sembra molto semplice la soluzione, cioè si costruiscono CPR e si risolve il problema, si riportano tutti a casa loro e finisce qua. Ecco, invece il problema nasce anche a livello europeo, non sono stati in grado, nemmeno ora che sono al Governo, a far rivedere il Trattato di Dublino, che è così fortemente penalizzante per l'Italia, ma soprattutto non si affronta il problema umanitario. Ecco, qui è stato palese l'adversità di differenze e di sensibilità fra la destra e il centro-sinistra. Io vorrei però evidenziare, come ho fatto anche in Aula, che forse sottovalutare il sentimento di insicurezza e la percezione di pericolo e di paura che è nella popolazione da parte del centro-sinistra è un problema e soprattutto un grave errore perché è quello su cui il centro-destra ottiene sempre maggiori consensi. L'Aula del Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio per l'anno 2022 per l'ente parco regionale della Maremma. Nel conto economico 2022 il valore della produzione è pari a circa 2 milioni e 368 mila euro. Analizzando i contributi in conto esercizio la regione toscana interviene con 1 milione e 446 mila euro ovvero per il 61% circa della produzione. Relativamente ai ricavi provenienti da ingressi, visite e attività del negozio si attestano a oltre 497 mila euro in calo rispetto all'anno precedente. Un calo dovuto soprattutto agli effetti post-pandemia con una diminuzione degli ingressi e a causa del blocco della cattura degli animali per gli effetti della peste suina. L'ente parco della Maremma si conferma una bella realtà, un ente che ha un bilancio positivo anche se è stato un pochino inferiore rispetto ai momenti del covid dove le persone erano ancora di più sul nostro territorio. Però il bilancio è positivo non soltanto dal punto di vista economico ma è positivo anche la programmazione che si pensa di fare all'interno del parco ente della Maremma. Quindi una splendida realtà che deve andare avanti e devo dire che oggi la discussione in aula diciamo che ha portato delle lodi anche da parte dell'opposizione per come si pone, per come è attrezzato e per quali sono anche i programmi di ampliamento sulla sentieristica che c'è all'interno del parco. La comunità del parco, composta dai sindaci dei comuni di Grosseto, Orbetello e Magliano in Toscana del presidente della provincia di Grosseto, non ha espresso il parere così come previsto da normativa regionale mentre il collegio dei revisori ha dato parere favorevole. Come detto, passa con il voto della maggioranza, con il voto di astenzione dei gruppi di centrodestra e il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Sul parco della Maremma noi abbiamo voluto dare un segnale positivo siamo stati come commissione a visitare quella struttura abbiamo parlato con chi dirige il parco alla presenza anche degli amministratori locali che si trovano bene con questo ente che è discretamente gestito infatti da un punto di vista di risultati positivi c'è la tenuta dei conti, il rispetto dei tempi ci sono però anche alcune ombre legate per esempio alla mancanza di personale sufficiente questo ci è stato detto dagli enti, dai soggetti che gestiscono il parco così come una mancanza di monitoraggio continuo della spesa per cui ci sono degli sfasamenti all'interno della gestione che sono stati segnalati dagli organi di controllo. Rispetto alla media di come vengono gestiti i parchi comunque in Toscana ci aspettiamo che si riesca ancora a migliorare magari aumentando della richiesta che abbiamo fatto la valorizzazione promozionale, il brand, la capacità cioè di stare sul mercato legando la funzione di conservazione naturale alla promozione sia nei confronti dei ragazzi e alla conoscenza dell'immenso patrimonio naturale della Toscana. Abbiamo verificato che intanto c'è un bilancio in positivo seppur forse da un certo punto di vista quasi troppo in positivo e quando c'è un bilancio molto in positivo di solito come abbiamo rilevato c'è anche un problema di programmazione però il presidente del parco ci ha rassicurato da questo punto di vista che così non è, è una situazione un po' eccezionale di questo anno e quindi anche la gestione delle risorse tornerà ad essere programmata in modo ottimale. Quello che ci ha invece posto qualche dubbio è il fatto che non c'è stato lo abbiamo verificato, il voto della comunità del parco cioè la comunità del parco non si è espressa anche qui il presidente ha dato delle rassicurazioni facendo notare che è prassi come dire non intervenire però sotto questo profilo riteniamo che invece sarebbe utile che la comunità del parco esprimesse e esercitasse quello che è il suo ruolo anche perché si potrebbe pensare eventualmente anche a una carenza di ruolo politico cosa che il presidente ci ha escluso. Evidenziato questo però oggettivamente l'approccio è diverso da quello che troviamo negli altri parchi e il voto della Lega è stato un voto di astensione. Dare in concessione alle associazioni di pescatori le attività di pesca di letta artistica La legge che interviene sulla gestione delle risorse ittiche e sulla regolamentazione della pesca nelle acque interne è stata approvata a maggioranza dall'Aula dopo un acceso di battito e una sospensione per mancanza del numero legale. L'atto è stato illustrato dal vicepresidente della Commissione di Sviluppo Economico e Rurale Mario Puppa La legge vigente già esaltava una grande collaborazione con le associazioni sportive di pesca di lattantistica noi abbiamo voluto fare un passo avanti proponendo la possibilità alle associazioni di poter avere in concessione dei tratti di torrenti o fiume per valorizzarli al meglio attrezzandoli facendo in modo che siano popolati da fauna autottona e anche diciamo in modo tale che diventino anche veri e propri punti di attrazione turistica e in questo modo cercheremo attraverso un emendamento che è stato approvato in Commissione che abbiamo concordato anche con le associazioni di pescatori intanto delimitato il margine da un 100% l'abbiamo portato al 15% quindi i tratti in Toscana in via sperimentale saranno il 15% del totale saranno diciamo così interessati da un bando che sarà gestito dagli uffici della ciunta e che avrà un titolo gratuito ma impegnerà diciamo le associazioni direttantistiche della pesca ad apportare diciamo attraverso un progetto vero e proprio di valorizzazione del valore aggiunto in questi tratti poi attraverso un altro emendamento che abbiamo inserito proprio all'interno della Commissione approvato in Consiglio abbiamo previsto la gratuità di alcuni soggetti rispetto al pagamento di un eventuale diciamo permesso aggiuntivo rispetto alla licenza della pesca e che sono i ragazzi sotto i 12 anni, i portatori di handicap e gli over 70 in questo modo vogliamo anche dare un segnale rispetto a una possibile diciamo maggiore fruizione diciamo di questi tratti di fiume da persone che hanno diciamo un pochino più di difficoltà nell'avere diciamo accesso ai permessi di pesca I voti favorevoli sono stati 22, 13 i contrari forti le critiche alla legge dal centro-destra legge che dicono non tiene conto del parere della gran parte delle associazioni Credo che sia una legge fatta ad hoc per una promessa mantenuta dall'assessore Saccardi e dal presidente Gianni e non lo dico io, lo dicono delle loro dichiarazioni in una conferenza stampa di circa un anno fa dove dicevano promessa mantenuta ad una singola associazione tutte le associazioni, le altre associazioni di pesca sono indignate è veramente una cosa impensabile che chi fa pesca un'attività sportiva, una passione debba pagare il tesserino più debba pagare a un'associazione la possibilità di poter pescare in un tratto di fiume non è pensabile che si dica come loro hanno provato a dire i fiumi saranno così controllati e puliti perché non si parla di diciamo collocazione di un fiume intero ma di piccoli tratti quindi il fiume sarà comunque nelle altre parti non prese in considerazione dalle associazioni sarà comunque tenuto male come purtroppo lo è ne sono tutt'oggi tutti i fiumi della Toscana e quindi non si risolverà il problema di rischio idrogeologico non si risolveranno i problemi ambientali quindi non ci possiamo attaccare a questo credo che questa proposta di legge non avrà un corso facile non sarà facile individuare quel famoso 15% di tratti che verranno dati in concessione non sarà facile capire quale sarà e come verranno assegnati a chi con quali criteri di valutazione quindi credo che questa legge per quanto mi riguarda sarà morta sul nascere perché il PD ha fatto molta confusione ci sono alcune associazioni nazionali che sono tendenzialmente favorevoli rispetto a questa proposta altre più locali che invece temono una privatizzazione dei corsi d'acqua alla fine nel dubbio il PD ha presentato un emendamento che restringe al 15% il totale delle acque interne che si possono concedere in uso alle associazioni ma non si è capito dove vengano individuate né con quali criteri per cui può essere che in una provincia tutte le acque o la gran parte delle acque cadano in concessione e automaticamente tutte le altre no quindi avevamo posto a queste altre questioni anche legate per esempio alle necessità di iscriversi ad un'associazione per andare a esercitare la pesca magari un'associazione che esprime indirizzi ideali che un soggetto non condivide pertanto non abbiamo ritenuto diciamo di esprimere un voto perché ci sembrava doveroso tornare in commissione e chiarire questi punti perché l'esercizio della pesca è regolamentato ad oggi per legge si può anche capire la volontà di migliorare perché poi c'è un problema di fauna ittica e di conservazione del patrimonio ambientale e autoctono rispetto a specie che vengono dall'esterno ma naturalmente questo va fatto rispettando i diritti di tutti a noi non ci è sembrato che questa legge fosse ancora sufficientemente sviluppata per farlo e quindi abbiamo ritenuto di esprimere non voto e ci riserviamo naturalmente di valutare insieme alle associazioni ulteriori proposte di modifica anche il Movimento 5 Stelle interviene sul tema del mancato coinvolgimento delle associazioni secondo Italia Viva invece la legge dà spazi importanti di partecipazione Scatto in avanti, una proposta, un impegno assunto e preso e mantenuto che consente alle associazioni di poter gestire dietro una concessione che appunto la Regione può concedere delle acque interne per un uso direttantistico della pesca quindi le associazioni avranno una opportunità nuova dentro dei limiti previsti dalla normativa che consentirà loro di autodeterminarsi e soprattutto di svolgere un'attività controllata nel contempo diciamo dentro i limiti che appunto la stessa legge prevede quindi una cosa positiva che non limita diciamo l'iniziativa singola ma che tutela anche le forme associative che a loro volta promuovono l'attività della pesca direttantistica grazie a tutti grazie a tutti